Allora, partiamo subito. Ieri sera ero sul mio divano rilassato e ho detto questa sera mi guardo un bel film in tv. Così accendo Netflix, guardo tra i film a cui posso accedere come sempre e alla fine trovo un film che attira la mia attenzione soprattutto per il titolo. Il titolo infatti era Crypto Boys. Ecco, voglio parlarvi di questo film, oggi non farò una recensione di una criptovaluta o non vi parlerò dei mercati finanziari tradizionali, ma vi parlerò di questo film perché vi voglio dire la mia opinione, non è una recensione sul film, non è che siamo in un canale in cui si parla di cinema o altro, ma voglio spiegarvi a fondo che cosa ne penso e che cosa mi ha trasportato questo film. Ovviamente ho iniziato a vederlo e non mi aspettavo un granché, non mi aspettavo sicuramente che andassero ad approfondire la blockchain o ad andassero magari all'interno di qualche criptovaluta specificando come questa criptovaluta svolgesse il suo ruolo all'interno della sua blockchain stessa, ovvero la sua funzione. No, assolutamente, mi aspettavo qualcosa magari un po' più di azione, ecco. Niente, è stata una delusione, lo spoilerò già, è stata una delusione per il semplice fatto che ha ribadito il concetto principale che continuano a ribadire i media da molti anni, anche se le cose stanno leggermente cambiando, ovvero quello che le criptovalute sono essenzialmente un grosso schiama Ponzi. Ma riassumo un attimo il film, per chi non l'ha visto, dico la trama, quindi tranquilli, non spoilerò il finale o nient'altro. Praticamente questo film tratta di una famiglia egiziana, tra cui un ragazzo che avrà 22-23 anni, il nome Amir, che vivono in un paese straniero, mi sembra che sia in Inghilterra, non ne sono sicuro però. Ecco, proprio in questo paese il padre ha un ristorante che con gli anni ha continuato comunque a mantenere in vita lottando e col sudore. Ma nel momento in cui inizia il film, ecco che le cose stanno andando completamente a rotoli. Difatti non accetta sia di rinnovare il locale con i consigli del figlio, ma decide anche di non dare nessuna responsabilità al ragazzo. Gli dà solo la responsabilità di consegnare, ovviamente tramite una bicicletta, tutte le pietanze che lui prepara. Il problema principale è che si fa fatica a pagare l'affitto e si fa fatica soprattutto ad arrivare a fine mese. Il ragazzo si sente ovviamente abilito, ma questo è un tema che porterà avanti per tutto il film, ma durante una consegna all'interno di un grossissimo palazzo, ecco che assiste a una manifestazione. In questa manifestazione c'è un altro ragazzo che, diciamo, è un po' più grande di lui di qualche anno, che è sopra il palco che sta parlando a una grossa folla, dicendogli che possono raggiungere la libertà finanziaria e tutto questo grazie alle criptovalute. Ecco che subito il ragazzo viene preso e il classico stereotipo delle criptovalute, ovvero quello di fare i soldi facili per poi essere fregati, entra subito all'interno del film, facendo subito capire allo spettatore che ci sarà sicuramente qualcosa che non andrà su questo, tra virgolette, futuro investimento che potrebbe fare il protagonista, non so se lo farà non ve lo voglio dire. Ecco che il protagonista allora in qualche maniera decide di lavorare per questo ragazzo, all'inizio non voluto, poi riesce ad entrare nel mondo delle criptovalute insieme a lui e alla fine succede un bel delirio. Non vi dico che cosa succede ma l'ho capito alle mie parole, voglio solo dire che questo film trasporta sicuramente il pensiero comune che hanno le persone che non capiscono nulla del mondo delle criptovalute, ovvero che sia uno schema ponzi. Ecco se se lo vedessero i miei genitori, ad esempio, andrebbero fuori di testa, continuerebbero a dirmi che cosa stai facendo, verrebbero ancora più trasportati alla situazione. Come sempre in media, e l'abbiamo imparato bene nel 2020 o anche in questi giorni con la guerra, vogliono trasportarti da un lato o dall'altro a seconda di dove tira il vento e soprattutto a dove loro fa più comodo. Ecco che ciò che rappresenta questo film è essenzialmente questo, vogliono portare il pensiero comune che si ha alle criptovalute e ripeto, se il film fosse stato incentrato su qualcos'altro, e magari lo è se si approfondisce il film come trama, sicuramente non darei un parere negativo perché se il film fosse stato intitolato in un'altra maniera, ecco che le criptovalute sarebbero addirittura potute passare in secondo piano, ovviamente sempre in un piano negativo. Ma, chiamandolo Crypto Boy, qualsiasi persona si affaccia a questo film, ecco che pensa subito alle criptovalute, giustamente, Crypto Boys. E quindi, e quindi, anche le persone che non conoscono le cripto vedono questo film, sicuramente ne staranno più alla larga possibile e non ci entreranno in nessuna maniera. Ma la cosa assurda è che questo farà sì anche che le persone non approfondiscano mai il discorso, perché qualsiasi cosa gli si proponga di studiare la blockchain, di studiare come funzionano le criptovalute, ecco che loro penseranno che tutte queste spiegazioni non sono nient'altro che un enorme schema Ponzi. Tutto questo sicuramente mi fa un po' arrabbiare, allo stesso tempo mi ha fatto venire in mente però grandissimi schema Ponzi che ci sono stati realmente nel mondo delle criptovalute, perché questo non possiamo negarlo e non voglio negarlo neanch'io, però allo stesso tempo fare un film che scadita così tanto, un mondo che sta emergendo, non mi è piaciuto, sarò di parte sicuramente, ma questa cosa veramente non mi è andata giù, ecco. Per cui ve lo consiglio? Sì ve lo consiglio solamente se avete la testa aperta e sapete staccarvi dal pensiero stesso del film e di quello che vi vuole dire. Sicuramente la storia del padre e del figlio è molto carina, parliamoci chiaramente non è un film capolavoro se volete passare un'ora e mezza così all'insegna del della trama già scritta, perché ognuno di voi si immaginerà già come si evolveranno le cose, ecco potete farlo. Se vi aspettate qualcosa da le criptovalute all'interno di questo film sappiate che non troverete niente di buono. Ora sicuramente mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, ovvero che la regolamentarizzazione sicuramente non permetterà più che ci siano così tanti scam e molto probabilmente ci saranno comunque film come questo, ma lentamente spero almeno che le cose vadano meglio. Anche perché di film sulle criptovalute ce ne sono veramente pochi, mentre sul mercato finanziario tradizionale, se vogliamo dire da tutta non è che quel mondo sia così sano, ecco, ce ne sono veramente molti. Non sto qui ad elencarvi tutti i film del passato, ma ce ne sono veramente tantissimi e anche alcuni più recenti, The Wolf of Wall Street è un esempio. Ecco che sicuramente se vi interessano i film sulle cripto farete più fatica, forse farete meno fatica a trovare documentari. Comunque, questa è la mia recensione, non mi è piaciuto per niente, più che altro per quello che passa allo spettatore. Se avete voglia di vederlo guardate, lo trovate su Netflix, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo film se lo vedete. Vi chiedo anche di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, di attivare la campanella e cliccare like, come se non ci fossero domani. Oltre a questo c'è un canale anche in cripto dove vi spiegheranno veramente come vanno le cose nel mondo delle criptovalute e quindi vi informeranno prima che voi investiate, se volete investirci. Queste ovviamente sono le vostre scelte. Grazie per la visione, un saluto da Michele, al prossimo video, un ciao a tutti quanti. Ciao!